Amici e amiche di Trieste Caffè e FWG Caffè, buonasera! Come potete vedere mi trovo all'esterno della Dacia Arena e tra pochissimi minuti inizierà Udinese Napoli. Una partita che potrebbe entrare nella storia in quanto il Napoli con un pareggio o con una vittoria potrebbe laurearsi qui alla Dacia Arena Udine, campione d'Italia. E adesso andiamo ad ascoltare le emozioni e l'aria che si respira di tutto il pubblico partenopeo venuto in massa qui a Udine per assistere alla partita. Che emozione sta vivendo? Grandissima, guarda qua, il freddo addosso. Un pronostico della partita di questa sera? Che emozione state vivendo adesso? Tanto, tanto. Siamo molto emozionati. In bocca al lupo. Grazie, sempre Forza Napoli, sempre. Come la vede questa partita questa sera? Ottimamente. Che emozione sta vivendo? Emozione unica, festeggiare qui è la cosa unica. Un pronostico? 2-0 per il Napoli, però se non va oggi va domenica, per cui sempre Forza Napoli. Grazie. E' una roba unica credo, perché dopo 33 anni io ho 29, quindi è una cosa veramente unica e speriamo che vada di tutto bene oggi. E che cosa vuol dire per la città di Napoli riportare a casa uno scudetto che manca da 33 anni? Eh, credo che sia una roba indescrivibile, non ci sono parole, è una roba assurda, credo. Eh, grandissime, grandissime. Noi siamo la generazione che non ha vissuto lo scudetto di Maradona, l'ha vissuto da piccolo. Quindi, si può dire, non abbiamo mai provato questa sensazione. È bellissima, io vengo da Torino, aspettiamo gli altri amici che arrivano. Meraviglioso, meraviglioso. Credi che questa sera sia la volta buona? Ce l'auguriamo, la scaramanzia non l'abbandoniamo, però abbiamo buone speranze, diciamo. Lasciamo fare al fato. E' un'emozione unica, senza dimenticare quella di Diego. E cosa vuol dire vincere lo scudetto dopo 33 anni? Era sospeso? Diciamo che era sospeso. Sono dieci anni, dodici anni, col nuovo presidente che potevamo vincere anche di più. Solo che sappiamo com'è andato a finire, però. Amici e amiche, come avete potuto vedere e sentire l'atmosfera fuori dallo stadio? È pazzesca. I tifosi partenopei emanano un calore veramente ineguagliabile. Dalla Dacia Arena è tutto, buona partita e che vinca il migliore.